Buongiorno, mai come in questo momento la stampa locale assurge a quel ruolo che da sempre le viene riconosciuto, ovvero oltre ad essere testimone dei fatti e delle trasformazioni di un determinato luogo, di quel luogo la stampa locale diventa anche collante sociale. Soprattutto oggi in questo momento di emergenza covid-19 dove giustamente sono state sospese ogni forma di socialità, il giornale locale diventa quello strumento per cui mantenere vivo il rapporto tra le comunità. E allo stesso tempo il giornale locale è utilizzato dai sindaci di quegli stessi territori come veicoli di determinate notizie che sui network nazionali generalmente non si trovano, come per esempio in queste ultime ore come accedere alla distribuzione delle mascherine che alcuni comuni del Canavese stanno facendo gratuitamente per chi non ne ha e non ha la possibilità di comprarne, oppure come poter ottenere i buoni spesa che il governo ha messo a disposizione per le persone meno abbienti. Ecco tutte comunicazioni istituzionali di cui la carta stampata locale diventa veicolo e trasformazione. Una funzione in più, questa appunto dei giornali locali, che ne determinano l'importanza e la forza anche in questo momento in cui lavorare per i giornalisti della stampa locale come quelli della stampa nazionale ma in generale per tutti i lavoratori diventa problematico e difficoltoso appunto per le restrettezze ovviamente che conosciamo legate alla misura antidiffusione del coronavirus, ma che allo stesso tempo con l'impegno, la passione e la determinazione fa sì che tutte le settimane non senza difficoltà e i settimanali arrivino in edicola. La raduzione del Canavese fa suo uno dei moniti che i sindaci del territorio stanno facendo, ovvero l'invito di rimanere a casa perché solo in questa maniera si potrà veramente debellare la diffusione del Covid-19.